La fiducia, perderla, ritrovarla, mantenerla è un tema di tutti gli uomini, di tutte le donne di ogni tempo direi. In questo tempo certamente anche molto in crisi. Fiducia è la parola chiave dell'ottava edizione di Utopic Fest, il festival internazionale sul conflitto che si svolgerà a Rondine, cittadella della pace. Da giovedì 30 maggio a sabato 1 giugno, tre giornate che si aprono con la marcia della pace lunga 10 chilometri che da Rezzo conduce al borgo medievale. È un cammino che vuole abbracciare i giovani di Rondine, questi giovani coraggiosi che decidono di non darsi all'odio, perché ne avrebbero anche delle ragioni, ma costruire possibili dialoghi e amicizie ritenute impossibili. 30 gli eventi in programma con 50 ospiti e migliaia di giovani che potranno incontrare Claudio Bisio, Pif, Michele Serra, Peratunz, Daniele Mencarelli e Gerardo Colombo, oltre a tanti altri rappresentanti del mondo della cultura, del cinema, dell'informazione, del mondo diplomatico e dell'economia. Quindi ci saranno dei momenti più accademici per il mondo accademico, dei ricercatori anche universitari, dei momenti per le famiglie, per i bambini, per trasferire anche il messaggio dell'accettazione, del riconoscimento delle differenze perché non spaventi. Ci saranno tutta una serie di laboratori anche teatrali, sportivi, fatti proprio per i giovani. E quello del cinema ovviamente sarà un momento anche di dibattito aperto a tutti quanti per riuscire a capire anche come il cinema sia lo specchio dei conflitti della società. Utopic Fest vede anche la partecipazione dell'ufficio scolastico regionale che ha invitato tutti i giovani della Toscana a vivere queste tre giornate mettendosi in gioco. Anche per il momento storico che stiamo vivendo è importante comunque ristabilire questo momento di fiducia con le giovani generazioni, educare al confronto, al dialogo e a una cultura della pace. Sarà una festa da vivere anche assieme a Liliana Segre nell'inaugurazione dell'Arena di Genin, dedicata alla memoria di quell'amica che non salutò prima che fosse mandata alla Camera Gass. E speriamo che Arezzo venga, che venga e che sia la grande occasione per conoscere Rondi e tanti ancora non sono mai venuti. Non ci sono porte, non ci sono orari, c'è un programma molto intenso dove vivere tre giorni appassionanti e disarmanti.